Non avete idea che domande mi fanno? Saturnino! Ma c'è vita su Saturno? Certo che c'è vita! Soprattutto il sabato sera. No, scemenza a parte, io amo la vita. E proprio per questo volevo parlarvi di Biotestamento. Un diritto importante che abbiamo tutti. Una legge che dice che puoi decidere oggi quali trattamenti sanitari accetti e quali rifiuti. Se magari domani non puoi più farlo. Per un incidente, per una malattia, per essere libero. Anche quando in teoria non potresti più essere. Scegli adesso. Adesso che puoi. Adesso che puoi.